Ciao a tutti amici e benvenuti in questo speciale di Natale che sarà più un brevissimo video di auguri e ho deciso a differenza degli anni scorsi in cui ho saltato perché era una giornata normale ho deciso quest'anno di prendermi un po' di tempo per farvi effettivamente degli auguri dato che è stato un anno particolarmente difficile e penso che in questi momenti sia davvero importante guardare a quello, guardare ciò che si ha, ok? E in un momento di riflessione mi sono reso conto che c'è tanto, ok? C'è tanto, c'è stato tanto, spero che ci sarà tanto e questo tanto arriva anche grazie a voi, anzi soprattutto grazie a voi perché l'ho già detto in passato negli scorsi giorni quando ho parlato delle questioni personali che mi hanno interessato purtroppo negli ultimi due mesi e ho avuto, ancora una volta lo voglio ribadire, ho avuto una risposta estremamente positiva da parte vostra e dunque mi ritrovo qua a farvi gli auguri nel giorno di Natale perché questo video uscirà il giorno di Natale buone feste, passate tanto tempo con chi volete, con chi vi fa star bene che può essere famiglia, amici, compagni, animali, passatempi anche se non sono delle persone però fate davvero delle buone feste, tanti auguri da parte mia, da parte dei collaboratori del canale e davvero ancora una volta grazie, grazie mille prenderò questa settimana qua e la prossima, quella di Capodanno per rilassarmi un attimo perché sto registrando questo video il 23 e sto arrivando da una settimana fortissima in cui ho lavorato davvero tanto e fino a tardi la sera quindi sono riuscito a registrare relativamente poco questa settimana usciranno relativamente gli stessi video della scorsa settimana sono un attimo fermo con la Survival dove mi vedete adesso e sono fermo un attimo anche con Zomboid uscirà un video di Rimworld, uno di Baldur's Gate e uno del Bootcamp la settimana prossima invece non uscirà niente ho deciso che, a meno che appunto non cambio idea oppure trovo del tempo libero per registrare della buona volontà per mettermi lì a registrare non che mi manchi la buona volontà di registrare però vorrei un attimo rilassarmi, passare del tempo con le persone che mi fanno stare bene e vi invito a fare la stessa cosa vi rinnovo ancora i miei auguri, davvero, passate delle buone feste e niente, ci vediamo presto poi con i prossimi video buon Natale, buon anno, buon tutto ci si vede presto grazie mille a tutti bye bye